C'ho un problema coi pronomi? Anzi no, ho problemi coi pronomi su diversi fronti. Allora, ogni volta che cerco di tradurre qualcosa dall'inglese all'italiano, mi trovo a dover affrontare il problema dei pronomi, che ormai chi parla in inglese è abituato appena si presenta a dire il nome e poi i pronomi che usa. Quindi quando io partecipo a gruppi, a incontri d'oltre Alpe in lingua inglese, mi chiamo Cristina Marras, pronouns she, her. Quindi mi chiamo Cristina Marras e uso i pronomi she al nominativo e poi her in tutti gli altri casi in inglese. Ora, in italiano questo non esiste, non si usa. E in italiano comunque è tutto reso incredibilmente difficile dal fatto che ogni articolo sostantivo, aggettivo, spesso anche alcune forme verbali vengono declinate dipendentemente dal genere. Quindi se io voglio evitare di usare un linguaggio sessista, maschilista, dove usando il maschile si intendono anche le donne, se voglio dare visibilità anche all'altro genere, dico tutti e tutte. Altra cosa problematica è che nell'italiano manca la forma neutra. Quindi mentre in inglese si dico they, loro, vuol dire che non è ne maschio ne femmina, può essere qualsiasi cosa, qualsiasi genere, in italiano questo non è possibile. Perché ve lo sto raccontando? Perché io ho un senso dell'umorismo wicked, che vuol dire un po' malizioso, un po' sciocchino anche per certe persone. Quindi l'altro giorno mi trovavo appunto in uno di questi incontri, con altra gente che veniva da tutte le parti del mondo, ma più che altro gente di lingua inglese, e quando abbiamo fatto il giro di presentazioni mi sono presentata dicendo mi chiamo Cristina Marras e i pronomi che uso sono she e her, e poi ho aggiunto her majesty, che è come dire sua eccellenza, no, sì, sua monarca, majesty, di solito si usa per la regina. C'è qualcuno che ci è rimasto male, perché c'era un po' l'impressione che io stessi prendendo in giro il fatto di usare, che la gente giustamente chiede un linguaggio inclusivo che riconosce i diversi generi. Io ci sono rimasta malissimo, anzitutto perché io ho un rapporto personale con la regina. Io quando sono diventata cittadina australiana ho dovuto giurare fedeltà alla regina, ma veramente, proprio con il coso lì, la Bibbia no, che non l'ho usata, però ho dovuto giurare fedeltà alla regina perché io sono suddita. E poi, raga, con il mazzo che mi faccio ogni giorno per cercare di usare una lingua inclusiva proprio io, insomma, è una cosa che non se ne cava piede, bisogna continuamente camminare sulle uova e niente, farò più attenzione, lo giuro, lo prometto, però lasciate il mio senso dell'umorismo, però lo riserverò ad altri ambiti, questo ve lo prometto.